Soprima, 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 soprima. Soprima, 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 soprima. Soprima, 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 soprima. Non c'è un intervento di sospensione sulle norme sulla sicurezza sul lavoro, perché come Ministro del Lavoro sulla sicurezza del lavoro dobbiamo fare di più, non togliere qualcosa, non togliere qualche garanzia. E ripeto, le tre norme che abbiamo sospeso nel Codice degli Appalti sono quelle su cui eravamo d'accordo e che consentiranno ai comuni e alle aziende di poter eseguire una serie di lavori con più velocità, senza sacrificare né la legalità né i controlli. Lasciatemi dire su Google una cosa però, visto che ci sono le persone qui. La cosa importante da dire è che lo Stato non si può permettere che una multinazionale americana venga qui ad ottobre, firmi un accordo e poi dopo sette mesi decide di mettere per strada 450 persone. Soprattutto se questa multinazionale americana ha preso negli ultimi anni 50 milioni di euro di incentivi e glielo ho detto chiaramente oggi al tavolo, o entro sette giorni portano la soluzione per lasciare aperta quell'azienda e far lavorare le 450 persone, o noi gli togliamo i soldi che hanno preso dallo Stato, gli blocco quelli che gli stavamo per dare e gli tolgo quelli che gli abbiamo dato con alcuni strumenti che dovevano servire a creare più lavoro e più occasioni per le imprese. I numeri di questi fondi che voi bloccate, di quanti soldi parliamo? Stiamo parlando di almeno, solo per iniziare, circa 15 milioni di euro. Ma voglio dirvi anche che sul taglio degli incentivi questa impresa, questa multinazionale americana, stava per avere anche altri soldi, altri soldi che lo Stato gli stava dando sulla base di un accordo. Ma se questo accordo non si rispetta e si pensa di poter chiudere dall'oggi al domani uno stabilimento con 450 persone che possono essere mio zio, mio fratello, un mio amico, tutte persone che possono finire per strada, e allora lo Stato non ci sta. Attenzione, queste persone con questa multinazionale sono venute al Ministero a firmare un accordo sette mesi fa. In sette mesi tu non cambi le carte in tavola quando ti sei impegnato per tre anni a portare commesse dalla Polonia in Italia e far lavorare i cittadini italiani. Quindi su questo ci faremo rispettare e tra sette giorni massimo mi aspetto un nuovo tavolo con una soluzione da parte loro. Perché noi le soluzioni le abbiamo già date, ci abbiamo messo i soldi degli italiani in questi insediamenti produttivi e ce li riprendiamo se non va bene. I suoi rapporti con Serbili sono miglioranti, c'è una nuova fase nel governo. Guardi io non sono mai stato... Non sono mai... e basta! Con la telefonata con Serbili è una tregua... Io non sono mai stato una persona orgogliosa, quindi per quanto mi riguarda stamattina, visto il fatto che eravamo in un impasse sul decreto sblocca cantieri, ho chiamato Matteo Serbili, ci siamo sentiti, abbiamo trovato una posizione di buonsenso che vede un accordo sulla sospensione del codice degli appalti solo sui punti su cui eravamo d'accordo, cioè su quelli che non rinunciano ai controlli ma diminuiscono invece le procedure. E credo che nei prossimi giorni... Credo che nei prossimi giorni invece sarà molto importante ricominciare a lavorare a pieno regime, perché quando noi abbiamo lavorato a pieno regime in questo governo abbiamo ottenuto dei risultati incredibili. Poi ovviamente gli ultimi mesi sono andati come sono andati, ma per quanto mi riguarda adesso è il momento di dare stabilità al Paese, soluzioni ai problemi che ci sono sul piatto e io ho fatto una promessa, salario minimo orario e misure per le famiglie che fanno figli in Italia e dovremo necessariamente adesso affrontare il tema della nuova legge di bilancio che non prevede solo degli accordi di maggioranza, prevede la compattezza del governo per riuscire ad affrontare una grande sfida. Per riuscire ad aiutare ancora di più i cittadini. La commissione antimafia è stata data un pericoloso segnale o una malattia, un po' di sblocca cantieri. L'accordo raggiunto sospende solo norme che già erano inattuate, come ad esempio l'albo unico che riguardava le imprese, che non era mai stato costituito e si chiedeva ai comuni di nominare i commissari delle commissioni valutatrici da un albo che non esisteva. Quindi facciamo una serie di interventi che in questo momento sicuramente sono di buon senso. Tutti gli altri che invece riguardano temi che possono preoccupare non ci sono. Per me il governo deve andare avanti per 4 anni, e l'ho sempre detto, quando non saremo d'accordo su delle cose ce lo diremo, però come al solito per fare il bene di questo paese abbiamo bisogno di un governo compatto e di una maggioranza compatta. Ministro, l'esame, ministro mi scusi, ministro, ministro, ma è comodo così.